buongiorno a tutti e benvenuti nella mia cucina non sono benedetta parodi ma sono niki giusino il disturbatore televisivo per attromasi a www.niki giusino.it nel prossimo video vi spiegherò come fare passo passo degli ottimi calzoni nel frattempo però vi faccio vedere gli ingredienti con meno di 10 euro che cosa sono riuscito a portare a casa vediamo per meno di 10 euro ho acquistato due impasti per la pizza già pronti a 1,99 euro l'uno poi ho acquistato del prosciutto cotto 2 etti 2 euro mortadella fiorucci 1 euro e 70 un etto e un chilo di ricotta di mucca 35 centesimi letto ne ho presa mezzo chilo 1 euro e 97 insomma avete visto che cosa ho comprato con meno di 10 euro e questo è solo l'inizio nel prossimo video vi mostrerò come farcire i calzoni e come friggerli niki giusino punto it salve